Salve a tutti da Automotor Fargio, un'altra puntata specialissima del punto del martedì con un altro grande ospite, il mese scorso abbiamo incontrato Giancarlo Minardi come team manager e oggi incontriamo il suo pilota storico Pierluigi Martini, buonasera, buonasera a voi, dicevamo adesso 120 gran premi, anzi 119 gran premi in Formula 1 più 1 nell'arco di 10 anni tra l'85 e il 95, quanti in Minardi? 103, 103 in Minardi e 16 in Scuderia Italia, quindi insomma diciamo un palmarese di tutto rispetto, campione europeo di Formula 3, vincitore della vendicatore di Le Mans? Sì nel 99. E poi ricordo anche una bellissima gara, forse l'ultimo campionato disputato nel 2009 qui a Imola, giusto? In Superstars? Sì ho fatto nel 2009 il Superstar e al debutto ho vinto qui a Imola, quindi sì ti ricordi bene. C'eravamo sotto la pioggia, gara molto spettacolare, quindi partiamo con Pierluigi Martini così come abbiamo fatto con Giancarlo Minardi, facciamo una chiacchierata a cavallo tra quella che è la sua esperienza e soprattutto la massima formula sia quella che ha visto negli ultimi tre decenni Pierluigi Martini sia quella di oggi. Quindi parto subito con una domanda che avevo fatto anche a Giancarlo Minardi. A Pierluigi Martini la Formula 1 di oggi piace e se potesse farebbe ancora il pilota? Mi piace molto, per me è molto interessante, è un po' troppo complicata nei regolamenti, ci sono un po' troppe varianti, ad esempio ci sono troppe mescole di gomme e quindi è difficile per uno che non è un vero conoscitore delle Formula 1 seguire a fondo lo spettacolo, quindi semplificandolo un po' secondo me sarebbe molto bello. Esattamente quello che ci ha detto anche Giancarlo. E alla luce di tutto ciò, quindi un appassionato secondo lei come si dovrebbe approcciare alla Formula 1 di oggi che magari molti dicono mai era più spettacolare negli anni 80, cos'è che al di là delle gomme è poco comprensibile? Ma forse i giovani lavorerebbero un po' più corta, una Formula 1 magari che possa durare non un'ora e cinquanta ma un'ora, o magari fare due months come fanno nella Superbike, quindi perché la cosa più sempre più emozionante sono sempre i primi giri, quindi due partenze potrebbero magari con le prime otto posizioni rovesciate potrebbero dare più interesse. Così com'è in Formula 2 praticamente? Sì, penso che la Formula 1 di oggi presenta dei piloti molto agguerriti e ci sarebbe molto spettacolo. Faccio un'altra domanda fatta anche a Giancarlo Minardi. Secondo lei manca di più la Minardi alla Formula 1 di oggi o figure come la sua, come quella di Giancarlo Minardi nell'ambito della Formula 1 e soprattutto a lei manca la Formula 1 oppure no? No, io la seguo da appassionato, non mi manca, mi piace, mi ha dato molto e quindi la guardo volentieri, la guardo da solo e anche con gli amici, però diciamo che la Formula 1 di oggi non si può paragonare alla Formula 1 degli anni Ottanta, è un altro film, si chiama Formula 1 ma è tutto un altro spettacolo. Ci sono comunque, come dicevo prima, personaggi che magari non vengono fuori per la loro interesse perché fanno parlare sempre l'addetto stampa, però trovo che a livello di competitività e di capacità ci sono dei piloti molto molto forti. Quest'anno in particolare c'è stato un grande rinnovamento nel parco piloti, si è abbassata molto l'età media e arrivano dei ragazzi sempre più giovani comunque con dei curriculum di tutto rispetto bisogna dire perché hanno già molte gare alle loro spalle e anche dei palmares importanti. Ci puoi invece raccontare Pierluigi Martini qual è stato il suo percorso di avvicinamento alla Formula 1? Ricordiamo che viene da una famiglia da corsa, anzi se magari ci vuole anche raccontare qual è la sua avventura diciamo familiare. La Formula 1 di oggi innanzitutto forma i piloti all'ideogame, al simulatore, quindi l'esperienza oggi la fanno al simulatore. Poi le macchine permettono di più l'errore quindi non si rompono, quindi se anche uno fa, adesso non si può neanche più sbagliare una cambiata, la macchina non rompe il motore, non rompe il cambio. Ai miei tempi se sbagliavi una cambiata e non si rompeva, ti veniva il sudore freddo, poi alla seconda non ti perdonava e rimanevi lì, quindi arrivavi per gradi alla formazione, all'esperienza, quindi dovevi fartela sul campo e per forza di cose impiegavi più tempo arrivare in Formula 1, l'età media era più alta perché logicamente dovevi fare più esperienza. Poi quando arrivavi nei team con poco budget non potevi neanche permetterti di disfare troppe macchine, quindi non dovevi rompere le macchine e i tuoi giudizi sulla macchina servivano per lo sviluppo, perché se io dicevo che la macchina aveva dei problemi, ne parlavo con l'ingegnere, l'ingegnere interveniva e faceva le modifiche su mia richiesta tante volte, quindi questo comportava degli investimenti, dei costi, se poi dopo queste modifiche non ti davano ragione è perché il computer magari diceva il contrario, alla fine il tuo caposquadra ti valutava come un pilota poco affidabile e ti cambiava, quindi il percorso dell'esperienza era fondamentale, dovevi per forza di cose crescere per gradi, poi c'era quello che era più sensibile e quello che era meno sensibile e trasmettere le tue sensazioni agli ingegneri e di lì si faceva lo sviluppo della macchina. Questo diciamo nelle squadre che ho corso io già negli ultimi anni, c'era già anche lì, erano arrivate le telemetrie eccetera, quindi le case più blasonate, quelle che avevano più mezzi, avevano anche più tecnologia e quindi avevano uno sviluppo più rapido. Io mi sono formato con i go-kart perché a casa mia c'era il virus delle corse, mio nonno gli piacevano le corse, mio padre faceva qualche gara in salita e mio zio Giancarlo mi ha accorso in Formula 2 e è arrivato anche a fare qualche gara in Formula 1 non titolate, però è stato un pilota molto bravo e ha vinto campionati italiani e si è affermato nei campionati europei di Formula 2 e io da ragazzino lo seguivo e gli facevo diciamo da mascot. La cosa che più mi piaceva era sentire l'odore della benzina, mi emozionavo tantissimo quando c'erano le partenze eccetera e quindi sentivo che avevo dentro quell'istinto che mi ha portato poi a guidare il primo go-kart che mi ha regalato lui, che mi ha regalato mio zio. Quindi tramite questa passione mi sono reso conto che salendo sul go-kart e poi salendo sulla Formula 3 eccetera mi veniva facile, mi veniva facile come può venire facile a un ragazzo che è portato a ballare, che è portato a cantare, che è portato a studiare e a me veniva facile guidare. Quindi io avevo quest'istinto dentro che l'ho modellato con l'esperienza. Quindi ogni passaggio dal go-kart, dalla Formula 3 alla Formula 3000, al Formula 1 mi è servito per migliorare sempre di più le mie capacità fino a che l'imbuto diventa sempre più stretto e sono sempre passato, sono riuscito a passare di là in quel mondo che era il professionismo. Il professionismo però è difficile arrivarci, è ancora più difficile rimanerci perché dopo una volta che sei professionista ti batti sempre con delle persone che vogliono batterti e quindi il tuo datore di lavoro ti misura sempre con gli altri, se gli altri vanno più forti di te smette di pagarti e quindi ti tiene sempre con l'amo in bocca e quindi devi sempre dare il 100% col mezzo logicamente che hai però ti mettono sempre vicino il compagno di squadra che magari è costato meno per svegliarti, per tenerti sveglio e per poterti dire guarda che quello là però prende meno di te e quindi è una vita molto competitiva, devi sempre dare il 110%. Però diciamo che i risultati seppur con pochi mezzi sono arrivati anche con la Minardi perché io mi ricordo comunque un gran premio in testa, mi ricordo una partenza in prima fila, mi ricordo arrivi a punti, tutti firmati da Pierluigi Martini. Io sono molto orgoglioso della mia carriera fatta in Minardi, di quello che abbiamo fatto con pochi mezzi e soprattutto che non ho mai vinto un gran premio però i risultati che ho fatto con la Minardi siamo ancora qui a ricordarli, se magari avessi vinto una gara con la Ferrari era un dato di fatto cioè non si sarebbe mai ricordato nessuno quindi per me, lo dico sempre, le mie dieci volte che sono arrivato nei primi sei sono state dieci vittorie perché questo lo sta riconoscendo il pubblico che ancora adesso si ricorda di queste cose quindi io mi ritengo di essere stato un pilota sotto tanti aspetti fortunato perché sono ancora qui a raccontare le mie storie e poi perché le ho vissute in una squadra come la Minardi o la Scuderia Italia dove c'erano pochi mezzi e quindi le fatiche che abbiamo fatto per ottenere quei risultati sono state molto sudate ma le cose sudate sono sempre le cose più belle. Quindi da queste parole mi sembra di capire che nella carriera di un pilota non valgono solo le vittorie ma nel momento in cui si rende conto dei risultati che raggiunge anche un settimo posto può essere una vittoria? Sì, io lo dico sempre, quando finivo una gara mi guardavo allo specchio e dicevo hai dato il 110% o hai dato il 98%? Questa era la cosa che più mi appagava, cioè sapere che avevo dato tutto quello che potevo e soprattutto quando lavori con delle squadre dove c'è tanta passione vivi dentro a un team dove tutta la gente ce la mette tutta e quindi quando riesci a vedere i sorrisi da parte di queste persone è la cosa più bella. Ecco, mi riallaccio sempre ad un'altra domanda che avevamo fatto a Giancarlo Minardi Nella Formula 1 attuale vanno appunto i primi 10 e quindi anche per un giovane pilota un settimo, un ottavo posto viene visto come un grande risultato. Lei ha detto che con la Minardi ha raggiunto 10 volte la zona punti che all'epoca era dei primi 6 se ci fosse stato un sistema, tra l'altro partivano più vetture perché eravate in 26 in griglia se non sbaglio senza contare gli iscritti che non passavano le qualifiche e le prequalifiche Quindi nella Formula 1 di ieri se ci fosse stato il sistema di punteggi di oggi la Minardi avrebbe potuto avere una carriera più fulgida? Sì, perché mal contati siamo arrivati 25 volte nei primi 10 Quindi ci sarebbe stato soprattutto il primo anno un upgrade su quello che poteva essere il riconoscimento dei bonus delle trasferte e quindi da parte della squadra ci sarebbero state più entrate e quindi molto probabilmente con più soldi si facevano anche le cose fatte meglio Faccio una domanda personale, Giancarlo Minardi ovviamente ha parlato di tutti i suoi piloti con molto affetto però ha detto tra tutti con Pierluigi Martini ho avuto un rapporto diverso perché sentivo un rapporto personale che mi faceva stare a volte in apprensione quando c'era un incidente o quando qualcosa non andava bene Dal punto di vista del pilota, Giancarlo Minardi è stato solo un team manager o anche qualcosa di più? No, Giancarlo lo ha ancora adesso, cioè è un amico quindi io devo solo dire che è stato bellissimo collaborare con la Minardi ed è bello tuttora il rapporto che c'è fra me e Minardi perché ancora adesso siamo vivi nel senso che col Minardi Day riviviamo tutti insieme un po' quelle storie che ci hanno fatto da un lato anche arrabbiare perché tante volte anche ci sono stati momenti difficili però diciamo che tutto alla fine è finito per il meglio perché se siamo ancora qua e siamo amici e ci incontriamo ancora in autodromo con le macchine da corsa vuol dire che la cosa è stata positiva Torniamo indietro al 1983, abbiamo detto Pierluigi Martini, giovanissimo vince il campionato europeo di Formula 3 che era estremamente competitivo all'epoca telai liberi, motori liberi, era veramente una mini Formula 1 a fine anno, se non ricordo male da un aneddoto raccontato in una serata qui alla sede Crame di Imola c'è un incontro con Enzo Ferrari, giusto? Sì, a fine campionato il direttore dell'autodromo di Imola, Paolo Moruzzi che era poi anche il mio manager mi accompagnò a Maranello ma io non sapevo che mi voleva conoscere l'ingegner Ferrari di sorpresa sì, fu una sorpresa perché io andavo spesso con lui lo accompagnavo, gli guidavo la macchina e lo portavo, lo avevo già portato diverse volte anche a Maranello però io aspettavo in macchina e quel giorno lì invece mi disse no, vieni giù anche te oggi io però non sapevo che l'ingegnere voleva conoscermi e quando andammo dentro l'ufficio dell'ingegnere loro iniziarono a parlare delle loro problematiche legate alla Formula 1 e io ero lì ad ascoltare e rimasi meravigliato dalla lucidità che aveva Enzo Ferrari e dopo un'ora di colloquio con Paolo Moruzzi si rivolse a me si alzò gli occhiali e mi chiese ma adesso Martini voglio parlare con lei perché vorrei capire che cosa le è successo all'ultima gara perché non aveva cambiato le gomme non avevo messo su due treni freschi nelle prove ufficiali eccetera eccetera e lì di lì capì e rimasi sorpreso che lui sapeva tutto di me e quindi rimasi così un po' allibito e gli risposi a tutte le domande e mi disse guardi lei cerchi di vincere questo campionato che prima o poi diventerà un pilota da Ferrari allora io riuscì a portare a casa il campionato all'ultima gara e lui dopo nell'84 mi chiamò a provare la macchina a Imola il 5 di aprile mentre Arnoux e Alboreto erano in Brasile solo che venne la neve venne la neve saltò quel test e dopodiché quando tornarono dal Brasile avevano dei problemi eccetera c'era un po' di tensione e venne tutto rimandato venne tutto rimandato al punto che poi io a fine 84 andai alla Minardi e quindi mi impegnai con Minardi e non potei diventare il terzo pilota da Ferrari però Enzo tutte le volte che andavamo a Fiorano veniva sempre a seguire gli sviluppi della Minardi e al termine delle sessioni di prove mi chiamava sempre perché voleva sapere era molto interessato allo sviluppo di questo piccolo team e soprattutto ci teneva molto parlare con me quindi questo mi faceva molto piacere poi tra l'altro aveva anche concesso in uso una delle sue Formula 1 quella che poi ha guidato suo zio Giancarlo Martini nel 76 cosa molto rara da parte del del commendatore Ferrari sì il commendatore era molto legato a Minardi e quindi questo era molto importante quindi potremmo dire accidenti alla neve comunque chiedo conferma anche di un'altra notizia che ho raccolto così guardando facendo un po' di archeologia nei giornali di automobilismo Pierluigi Martini ha anche rischiato di disordire in Formula 1 con la Toleman nell'84 sì ho partecipato al Gran Premio d'Italia con la Toleman nell'84 e ho avuto la sfortuna che nei due giri di qualifica perché in quel momento lì si faceva la qualifica al venerdì e al sabato e nella qualifica cambiava molto la prestazione perché mettevi il turbo al massimo e poi mettevi le gomme morbide e in entrambi i giri i due giri di qualifica sia del venerdì che del sabato ho rotto il motore all'ultima curva e quindi non mi sono qualificato cosa che ero abbondantemente dentro durante le prove libere durante le prove normali dove tutti non avevano le gomme da qualifica io purtroppo con le gomme da qualifica ho rotto due turbine e sono rimasto fuori quindi accidenti al motore Art accidenti sai col senno di poi si potrebbero fare tante cose diverse però è andata così e quindi è stato un debutto sfortunato parliamo invece di ricordi belli la gara che ricorda con più piacere ma di gare allora le gare più belle che ho fatto se parliamo di Formula 1 la gara più bella è stata la gara del Portogallo del 91 e anche con questa vettura si con quella vettura lì terminai quarto a pieni giri e fu una fu una bella giornata poi altre giornate non so anche nell'89 ho fatto un giro in testa con la Minardi sempre al Gran Premio del Portogallo e poi sono ho finito quinto nel Gran Premio poi mi ricordo di aver fatto delle belle delle belle gare anche in 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 Australia e ricordo soprattutto la anche la prima fila fatta in America sempre con la M191 no la prima fila l'ho fatta con la 189 con la M189 poi ricordo il Gran Premio d'Australia che la mattina dopo che avevamo fatto il terzo tempo in qualifica avevo il miglior tempo nel nel warm up e a tre minuti tre quattro minuti dalla fine Minardi mi ha chiamato dentro perché mi ha detto guarda siamo a posto era quella è stata forse l'unica gara che potevamo vincere perché andavamo veramente forte e dopo in gara un quarto d'ora prima della partenza è venuto il diluvio universale e al punto che Prost non ebbe il coraggio di partire io avevo il terzo tempo e avevamo delle gomme pirelli non sviluppate per il bagnato e mi ricordo che dopo due ore di gara dopo due ore di gara terminai la gara che avevo ancora i pirulini sulle gomme da gran che era andore e fu una gara difficilissima arrivai sesto però se ci fosse stato l'asciutto alla mattina eravamo eravamo veramente forti quindi quante volte il meteo condiziona una carriera potremmo dire quello è stato il rimpianto più grande quindi mi ha già risposto alla prossima domanda invece l'avversario più duro da battere che ha anche ammirato di più ma in squadra come compagno di squadra no in generale beh Ayrton Senna Ayrton Senna era diciamo un punto di riferimento ma non solo per me penso per tutti tra l'altro anche questo ricordo sempre una delle serate tra i tanti aneddoti però mi piacerebbe che lo raccontasse anche chi ci segue c'è un aneddoto che riguarda Ayrton Senna ospitato a casa sua qui qui a Imola e con un anche con un simpatico incontro con sua madre giusto sì sì no era dunque abitavo a Lavezzola non ero ancora venuto a Imola allora era stato in 93 io sono venuto abitare a Imola nel 97 e Ayrton venne a casa mia a dormire per le prove prima del Gran Premio e ricordo che mia madre era molto agitata perché nell'83 quando io vinsi l'Europeo di Formula 3 lui vinse il campionato inglese di Formula 3 e dopo ci scontrammo per salire sulla Brabham Formula 1 ed eravamo nemici dopo ci fu un braccio di ferro fra Eccleston e Tansy ricordiamo che lo sponsor principale era la Parmalat era la Parmalat sì e organizzarono una una sfida al Porricart dove chi andava più forte doveva guidare la macchina io andai più forte di due centesimi però Eccleston per non far comandare lo sponsor a casa sua triblò il contratto dove il contratto voleva c'era scritto che la Brabham la seconda Brabham doveva essere guidata da un italiano e fecero guidare Teofabi quindi c'era la rivalità fra me e Senna al punto che dopo la prova del Porricart andammo a Macao a fare diciamo una gara internazionale di Formula 3 dove praticamente c'ero io che ero il campione europeo lui era il campione inglese eccetera e a Macao io picchiai andai fuori lui vinse la gara mia madre che era nell'albergo dove c'era Senna gli scappò una frase infelice perché delle volte uno gli capita anche quando c'è molto diciamo molto tifo io nel caso di mia madre mia madre era la prima tifosa gli scappò detto con un mio amico in albergo no lui lì è andato forte perché aveva le gomme truccate a quel punto lui che capiva bene l'italiano si girò e gli disse guardi che io io capisco bene l'italiano e mia madre rimase interdetta sono passati dieci anni diciamo da quel fatto e appena io disse a mia mamma guarda che Ayrton viene a dormire a casa nostra gli ho detto prepara la camera eccetera allora mia madre disse ma si ricorderà di me allora gli ho detto ma non credo sono passati tanti anni e invece appena arrivò a casa il tempo proprio che mia madre era sulla porta ad accoglierlo lui la guardò la fissò negli occhi e gli disse ma io te ti conosco a quel punto mia madre fu molto abile l'abbracciò e gli disse Ayrton ti chiedo scusa tu sei il numero uno sei il più forte di tutti e lì è finita in una risata beh quindi dopo nell'arco di dieci anni eravate diventati amici con Senna sì sì no dopo c'era penso una stima reciproca e al punto che eravamo diventati amici quando quando eravamo in gara io diciamo non ero un mio avversario Senna quindi era era per me sempre interessante imparare da lui so quando rimanevo lungo il percorso eccetera cercavo sempre di capire come faceva lui certe curve certe cose e in più quando eravamo anche fuori dai gran premi ci siamo allenati insieme e quindi mi insegnava anche la preparazione atletica ecco appunto non eravate avversari diretti quindi diciamo che la Minardi era sempre a metà o nella seconda metà del gruppo ma non eravamo avversari diretti però quelle volte che sono partito in prima fila e sono riuscito anche a metterlo dietro in America eccetera c'è rimasto male no ma mi stimava sapeva benissimo che aveva una macchina inferiore e che a volte riusciva a fare i miracoli no proprio relativamente a questo quindi la lotta nella seconda metà del gruppo è vero che adesso si discute molto anche sul ruolo dei doppiati insomma quando un doppiato non dà strada per due curve già ci sono polemiche e quant'altro ho sentito dire che invece all'epoca Pierluigi Martini fosse uno che i doppiati lasciava che gli altri piloti se li guadagnassero è vero oppure è una leggenda? ma diciamo che hanno introdotto il time penalty al Gran Premio di Monte Carlo e io sono stato il primo a prenderlo questo questo me lo ricordo e però era sbagliato era sbagliato perché c'erano piloti che non avevano bisogno che uno si facesse da parte per superarti ricordo se ne eri migliore arrivava cioè te non ti dovevi neanche preoccupare ti passava da tutte le parti perché avevano talmente tanto superiorità di mezzo che facevano cioè avevano erano gente capace e quindi non c'era bisogno di di favorirli ricordo Mansell che anche lui non aveva problemi ricordo Rosberg che che anche lui non aveva problemi erano gente che arrivavano erano decisi che ti entravano dentro e non te ne accorgeli neanche poi c'erano dei piloti che invece erano molto più titubanti non so quello che ricordo che proprio quasi ti dovevi fermare perché altrimenti non ti passava era era Demonil quindi quando quando però dato che io con Demonil ci ho corso anche in Formula 3000 sono affermazioni importanti eh avevo la macchina uguale a lui io vincevo e lui arrivava dietro quindi diciamo che è stata è stato introdotto un regolamento anche giusto perché ci sono delle situazioni delle volte che chi è lento può disturbare gli altri però anche un po' troppo eccessivo quindi uno deve ricordarsi che ci sono anche quelli che hanno le macchine inferiori che sono in gara anche loro e quindi si devono battere per anche loro per la loro posizione quindi io ero lì cercavo di di mettersela tutta di non regalare niente a nessuno o di regalare il meno possibile perché alla fine avevo anche io i miei avversari certamente e qual è stato proprio nel gruppo diciamo nel centro gruppo di quell'epoca l'avversario più duro da farci a ruotate diciamo le cose come sono ma era c'erano tanti piloti ed erano tanti piloti forti cioè io ricordo che in formula 1 allora quando arrivavi in formula 1 era perché sapevi guidare non io non sottovalutavo nessuno cioè non non è bello dire quello era più bravo dell'altro ho detto di Damon Hill perché con Damon Hill ho avuto una discussione grossa qui a Imola e quindi la ricordo però la ricordo perché tanti quando riuscivano a superarti ti alzavano il pugno quindi cioè era era anche abbastanza offensivo e quindi dato che sono sempre stato uno che non ho mai alzato il pugno verso nessuno passavo e e cercavo di di tenere le mani sul volante non di lamentarmi degli altri cioè quando loro avevano macchine che erano molto più veloci di me trovavo che fosse stupido voler voler far vedere con le mani alzate diciamo l'accaduto quindi allora ebbe un diverbio a Imola e non gliel'ho mandato a dire gliel'ho gliel'ho detto ecco abbiamo parlato di piloti parliamo di macchine qual è la macchina che ricorda con più piacere di aver guidato? ma se parliamo delle delle Minardi ricordo l'89 e la 91 come diciamo le macchine migliori e forse la 91 sarebbe stata una grandissima macchina se oltre al motore Ferrari avessimo avuto anche il cambio Ferrari quell'anno lì invece avevamo un cambio sottopotenziato e quindi abbiamo avuto delle abbiamo buttato via tante gare per delle rotture stupide e poi non avevamo il problema della frissione che era un motore che era nato per avere il cambio automatico e quindi dopo un po' avevamo sempre problemi la frissione facevo quasi tutto il gran premio senza la frissione e la macchina dei suoi sogni quella con cui non ha potuto correre ma che avrebbe voluto assolutamente guidare? la macchina dei miei sogni è la Ferrari come sei nella fine 91 venni preso dalla Ferrari e poi dopo all'ultimo momento mi girarono alla Scudera Italia e quindi quello è stato diciamo il il dispiacere più grande chiudiamo con una domanda relativa ai piloti italiani quest'anno è tornato giovinazzi in Formula 1 dopo diverse stagioni all'epoca quindi tra gli anni 80 e 90 eravate una piccola a Colonia eravate tipo almeno sempre una dozzina di piloti in Formula 1 adesso finalmente ne abbiamo uno che cos'è che è mancato in tutti questi anni dall'esperienza di Martini? dopo di noi ci sono stati tanti piloti italiani c'è stato Fisichella c'è stato Trulli ci sono stati piloti che hanno guidato per squadre buone per squadre importanti e quindi sì c'è stato un vuoto un vuoto dovuto un po' al fatto che le Formula 1 erano rimaste 18 e un po' anche al problema dell'economia italiana perché quando un paese va bene economicamente vuol dire che ci sono anche più sponsor c'è più interesse e di conseguenza è più facile per un pilota essere spinto in Formula 1 quando e questo diciamo è stato un problema diciamo importante poi non dimentichiamoci che di squadre italiane c'era solo la Ferrari quindi la Ferrari aveva già i suoi piloti quindi cambiare Schumacher o chi c'era allora non mi ricordo neanche più Barichello poi Massa però ecco io ad esempio Massa l'avrei scambiato benissimo con un italiano quindi per me c'è stato troppo tempo Massa la Ferrari poteva benissimo andarci un italiano prima quindi adesso però ci sono c'è Giovinazzi che è su una buona macchina e quindi facciamo il tifo per Giovinazzi direi che con questo augurio al pilota italiano che ha riportato il tricolore in Formula 1 possiamo chiudere questo primo video insieme a Pierluigi Martini che ringraziamo un saluto a tutti e poi ci diamo appuntamento al Minardi Day per chi vuole incontrare Pierluigi Martini ci sarà vero? si si vi aspetto tutti al Minardi Day con le sue splendide vetture quindi un saluto a tutti da farci sempre piedi sul gas